Nel 2017 NutraByte ha portato un restyling ed un ampliamento di tutta la propria gamma di prodotti presenti a catalogo. Una nuova linea molto interessante rappresentata dai nuovi liquidi liquid food, dei veri e propri cibi liquidi. Il principale liquid food che ci ha destato maggiore attenzione e che abbiamo voluto inserire a catalogo in maniera primaria è il krill liquid. Eccolo qua, in formato da 500 ml, è un estratto liquido di krill, uno dei maggiori attrattori per carte che negli ultimi anni è riuscito a catturare moltissimi pesci in tutta Europa. Come dicevo, un estratto liquido di krill predigerito con addetivate proteine solubili e nutrienti. È ideale da aggiungere in ogni mix in cui andiamo a pescare durante tutto l'arco dell'anno, essendo totalmente solubile e fornitore di proteine in maniera eccellente. Il dosaggio è di 10-25 ml ogni 500 grammi di mix, riportato nella parte posteriore dell'etichetta in maniera molto chiara e semplice. Andremo a presentarvi successivamente altri liquid food, essendo sicuri che verranno apprezzati molto dagli esperti self-maker che ricercano prodotti di elevata qualità senza nessun tipo di compromesso per avere delle boeles self-made quanto migliori e complete dal punto di vista nutrizionale possibile.